dei risultati sembra che qualcuno mi abbia avvenuto che poi dico a fare l'ho fatto che significa vero? Sì, lo so Ok Lui mi ha detto ma lei ha anche questa sensazione che io lo sapevo già che sentivo questa roba qua che volevano avvelenarmi e farmi fuori però non ho detto niente a voi perché era giusto che voi rendesse conto delle diagnosi e tutto Lui mi fa lei ha e sta avvelenata e noi pensiamo che ci sia una sorta di complotto nei suoi confronti Devo parlare con i medici, Iman, al più prezzo Esatto, però per poi devo venire Stamattina Eh vabbè, tu l'importante è che ti prendi nome e cognome del medico potrebbe che tutto ho scritto e non scappa niente Facciamo tutte le cose che dobbiamo fare, Iman Non ti preoccupare Grazie 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 Grazie